La Regione Molise ha intenzione di vendere la sede di rappresentanza a Bruxelles in Rio de la Toulouse e contestualmente ha approvato lo schema di avviso esplorativo per la manifestazione di interesse. Il prezzo indicativo base dell'immobile con una superficie compressiva di 750 metri quadrati è fissato a 1,6 milioni di euro. In caso di reperimento di soggetti interessati, si legge nella delibera di giunta, si procederà nell'ordine alla redazione di perizia di stima giornata dell'immobile all'inserimento di quest'ultimo nel piano delle allenazioni immobiliari e alla pubblicazione del relativo bando di vendita avvisando opportunamente gli interessati che hanno manifestato interesse all'acquisto. L'immobile a distanza di quasi 20 anni dal suo acquisto necessiterebbe di interventi di ristrutturazione e al momento ospita solo due dipendenti regionali.